Dalla lettera ai Romani di Paolo, l'Apostolo, capitolo 8, versetti 38 e 39, diciamo, infatti Ecco la vera causa della sofferenza dell'umanità, la separazione dall'amore di Dio, concetto che troviamo ribadito nel brano che ora ascolteremo, Signore, lo mettereste vero con me, con le mie devorezze, perché lontano da te il mio cuore la riduce, e di Giuseppe Giordani, calmo bene. La vera causa della sofferenza dell'umanità, la separazione dall'amore di Dio, concetto che troviamo ribadito nel brano che ora ascoltiamo, La vera causa della sofferenza dell'umanità, la separazione dall'amore di Dio, concetto che troviamo ribadito nel brano che ora ascoltiamo, La vera causa della sofferenza dell'umanità, la separazione dall'amore di Dio, concetto che troviamo ribadito nel brano che ora ascoltiamo, La vera causa della sofferenza dell'umanità, la separazione dall'amore di Dio, concetto che troviamo ribadito nel brano che ora ascoltiamo, La vera causa della sofferenza dell'umanità, la separazione dall'amore di Dio, concetto che troviamo ribadito nel brano che ora ascoltiamo, Grazie.